buongiorno a tutti amici nexus lab sono alessandro e finalmente lo dico proprio da con quasi scusandomi con voi per il ritardo vi proponiamo il video confronto tra il nexus 4 e il nexus 5 ritardo dovuto non tanto all'impossibilità di ottenere i device dato che il nexus 4 già lo possedevamo ma dai problemi appunto con quest'ultimo smartphone purtroppo in assistenza ci è tornato da pochissimo tempo ora funziona del tutto anche se non l'abbiamo aggiustato completamente adesso ve li mostriamo nexus 5 qua a destra adesso ve li descriverò con calma nexus 4 qua a sinistra come potete vedere dopo la caduta non avevamo più fondi diciamo non ne valeva forse neanche più la pena riparare la cover posteriore che costa parecchio quindi purtroppo nexus 4 ce l'avremmo in questo formato un po' devastato per il resto il device funziona alla perfezione parliamo di questi due smartphone allora nexus 5 sempre di lg come nexus 4 quindi continuità di produttore per una come per samsung prima di lei anche se forse lg cambia molto di più rispetto a samsung dal punto di vista prettamente estetico nexus 5 più grande abbiamo un display da 4.97 pollici full hd ne parleremo dopo mentre il display hd ready del nexus 4 è un pochino più piccolo abbiamo un 4.7 pollici ma come potete vedere le dimensioni sono pressoché simili il lavoro mi soffermerei soprattutto sul valore dei pesi i pesi che sono che ci danno un'idea del del fatto che la scelta della plastica sia stata comunque una buona scelta il nexus 5 infatti pesa solo 130 grammi mentre il nexus 4 essendo pure più piccolo pesa 139 grammi quindi un valore 10 grammi di differenza pur essendo più grosso quindi abbiamo una managevolezza e una trasportabilità maggiore nel modello successivo scelta della plastica scelta della plastica che sinceramente a me personalmente non dispiace più che altro lg doveva mantenere la qualità delle plastiche alta cosa che però sembra aver fatto è recente l'articolo che abbiamo pubblicato relativo allo staccarsi di queste lettere qua nexus nella cover posteriore da parte di due utenti abbiamo solo queste due segnalazioni online non esistono tante non sappiamo neanche come abbiamo trattato gli smartphone questa gente quindi per ora ci sentiamo di promuovere i materiali materiali che comunque rimanevano e rimangono ottimi nel nexus 4 sono materiali più di pregio si sente sin dal tatto che il nexus 4 sembra essere uno smartphone leggermente più importante questo è dato da cosa? non tanto dalla cover posteriore ma quanto dalla cornice cromata dal bordino in plastica gommata che ci consente un grip migliore e soprattutto per chi utilizza molto lo smartphone e anche gli spigoli dal vetro anteriore che come potete vedere ha dei bordi veramente molto ben lavorati sui lati in modo da avere una continuità tra schermo e bordo molto ben fatto cosa che invece sul nexus 5 non c'è più sul nexus 5 infatti abbiamo uno spigolo molto ben marcato leggermente più o meno bello al tatto per dirla proprio in gergo andiamo avanti nell'analisi dell'estetica estetica frontale ci troviamo più o meno a commentare uno smartphone molto simile sono più o meno tre generazioni di smartphone che Google non cambia troppo il frontale è leggermente più spigoloso il nexus 5 come potete notare ve lo alzo un secondo leggermente più spigoloso ma presenta comunque la medesima struttura la differenza più grande soprattutto in questo modello bianco è costituita dalla capsula auricolare di forma circolare nel nexus 5 e di forma questa particolare forma anche questa molto carina nel nexus 4 vicina al bordo led di stato nella parte bassa sotto il display si mantiene multicolore molto utile cornice che non cambia molto la disposizione dei tasti tasti che questo è un elemento molto importante migliorano tantissimo nel nexus 5 tasti in ceramica così li vedete sicuramente meglio tasti in ceramica i quali restituiscono un ottimo feeling dell'input mentre sul nexus 4 i tasti erano in plastica classica plastica morbida non restituivano un ottimo input in tutti i casi questo aspetto è molto migliorato nel nexus 5 parte di destra possiamo vedere appunto il tasto di blocco sblocco del telefono e accensione parte alta anche qua praticamente identica abbiamo il connettore del jack da 3,5 per le cuffie auricolari il microfono per la soppressione dei rumori mentre nella parte sinistra abbiamo il bilanciere del volume anche qua nella medesima posizione lo slot per la micro sim sul nexus 4 è posto a sinistra sul nexus 5 è posto a destra parte bassa parte bassa che ci illude un po' nel nexus 5 perché abbiamo queste due griglie che in realtà nascondono una il microfono e una l'altoparlante di sistema mentre nel nexus 4 l'altoparlante di sistema si trova nella parte posteriore andremo a vederlo adesso microfono come detto nascosto nel nexus 5 visibile invece nel nexus 4 e poi abbiamo la porta micro usb parte posteriore è quella effettivamente molto molto più diversa tra i due device nexus 5 in questo caso bianco abbiamo la fotocamera circondata da questo anello di vetro che nasconde sotto di lei un magnete per l'aggancio degli obiettivi magnetici accessori molto carini certo non farete foto eccezionali però può essere una piccola aggiunta anche carina da mostrare agli amici flash led in questa posizione alla fine il flash è in una medesima posizione nel nexus 4 e nel 5 come il sensore cambia invece l'altoparlante di sistema nel nexus 4 come potete vedere è nella parte posteriore vi dico subito è abbastanza mediocre sia nel nexus 4 che nel nexus 5 unica cosa nexus 4 l'altoparlante era scomodo quando era appoggiato in questa posizione perché andava del tutto coperto nella prima versione di nexus 4 poi gli hanno aggiunto fortunatamente dei piedini di plastica nexus 5 invece non ha questo problema certo quando giocheremo facilmente andremo a coprire e tappare il tappo cosa che appunto comporterà la riduzione del volume che già non è altissimo di per sé ultima cosa poi passeremo direttamente alle caratteristiche tecniche dimensioni dimensioni abbiamo un nexus 5 di 137.84 mm per una larghezza di 69.17 per uno spessore di 8.59 mm nexus 4 che non fa meglio ovvero fa meglio solo in altezza abbiamo un 133.9 mm quindi circa 4 mm qualcosa 5 mm di differenza mentre abbiamo una larghezza praticamente identica un 68.7 mm un mm di differenza cambia lo spessore più di mezzo millimetro in favore del nexus 5 dato che il nexus 4 è 9.1 mm si vede subito se ve li metto in questo modo quindi ottimo lavoro come vi ho detto dal punto di vista della realizzazione di questo device grazie a tutti 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 andiamo ad analizzare l'hardware hardware che cambia sensibilmente la prima cosa che vediamo è la differenza di display display come detto aspettate un attimo ci tengo comunque a fare una precisazione questa non è una video recensione di Android 4.4 KitKat, me lo chiederete di sicuro, abbiamo fatto la video recensione del Nexus 5 con un particolare focus appunto su Android 4.4, qui ci concentreremo prettamente sulle caratteristiche hardware e sulle prestazioni, dato che un video confronto non vale la pena, non sarebbe neanche utile riproporre le feature di Android KitKat, detto questo scusatemi l'excursus, andiamo a vedere il display, 4.97 pollici full HD pieno nel Nexus 5, Nexus 4 invece abbiamo un 4.7 pollici, molto vicino come dimensioni alla fine, ma cambia la risoluzione in maniera notevole, dato che abbiamo un 1280 x 768 pixel, un po' più di un HD Ready, però alla fine la differenza, soprattutto con immagini di una certa qualità e video anche di una certa qualità, si notano. Mettiamo la luminosità più o meno allo stesso livello, in modo che riuscite a vedere bene entrambi, display IPS, tecnologia sempre LG, cos'hanno come caratteristica? A livello di luminosità più o meno sono sullo stesso livello, adesso ve li metto al massimo, abbiamo una luminosità leggermente non tanto superiore, perché anche da quel punto di vista sono simili, ma meno accecante sul Nexus 5, ovvero nel Nexus 4 quando spariamo al massimo la luminosità i colori e i contrasti vanno un po' non sono più fedeli, mentre sul Nexus 5 abbiamo una fedeltà cromatica nettamente superiore. Entrambi i Nexus che abbiamo qua in mano sono aggiornati all'ultima versione, alla penultima perché è appena uscito Android 4.4.1 di Android, versione che è praticamente identica, però Google ha deciso di default di disattivare alcuni elementi del lancer sul Nexus 4, elementi attivabili. Parliamo per esempio delle trasparenze, trasparenze che andranno a incidere soprattutto sulle prestazioni di Nexus 4. Il Nexus 4 infatti ha pur sempre un processore quad core Snapdragon S4 Pro, però ormai è più datato, le trasparenze sono elementi abbastanza pesanti, una scelta discutibile, poteva essere messo di default questa configurazione ma non ci sentiamo neanche di criticarla più di tanto. Andiamo a testare subito il browser, browser utilizzeremo Chrome, ormai è quello di default, non si scappa più. Vi avvicino un po' la immagine, vi abbasso la luminosità se no diventate ciechi. andiamo un po' la immagine, non al minimo totale. Ok, dovreste riuscire a vedere abbastanza bene. Rialziamo solo leggermente quella del Nexus 5. Ok. Pronti, partenza, via. Ora, non fateci caso, questa è la versione mobile del sito, non ha valore, perché la versione mobile è talmente leggera, ce l'avevamo tra l'altro già in cache, quindi non ha praticamente valore. Richiediamo il sito desktop. Scusate ancora, mi sono accorto adesso che abbiamo 10 pagine aperte da una parte e una dall'altra. Ok. Giusto perché dopo rischiamo di generare confusione a livello di prestazioni. Chiudiamo un po' di applicazioni. In questo momento stavamo utilizzando il Nexus 5 come potete vedere. Chiudiamo tutto anche il possibile sul Nexus 4. Ripetiamo il test. Sono sempre test abbastanza difficili da fare perché sono molto sensibili questi. Vi confermiamo sin da subito che abbiamo una maggiore velocità ma soprattutto fluidità nella navigazione sul Nexus 5, soltanto che vogliamo confermarvela coi fatti. Per questo adesso riproviamo. Apriamo l'articolo su Doom. Uno, due. Ok. Molto simili. Hanno caricato diversi elementi in maniera diversa. Come potete vedere la velocità di navigazione è simile. Quello che cambia è la fluidità dello scroll per esempio. Entrambi assolutamente ottima ma non così diversa. Proviamo ad andare su un altro articolo linkato in fondo. Andiamo su questo del Motorola Moto G. Uno, due. In questo caso è nettamente più veloce il Nexus 5. Pagine navigabili in estrema velocità su entrambi già quando non è caricato neanche metà articolo. Pinch to zoom leggermente migliore secondo me nel Nexus 5. Abbiamo una sensibilità maggiore e bisogna fare meno strada per zoomare. Nel Nexus 4 invece bisogna muoversi nettamente di più. Piccoli dettagli ma sulla distanza fanno. Andiamo a un altro dettaglio, anzi un'altra grande differenza dei due device costituita dalla fotocamera. Fotocamera da 8 megapixel con stabilizzatore d'immagine nel Nexus 5 e fotocamera da 5 megapixel senza stabilizzatore d'immagine nel Nexus 4. Nel Nexus 4 la... Intanto prendiamo il nostro Nexus S che non ci abbandona mai. Nel Nexus 4 la fotocamera è del tutto insufficiente, l'abbiamo sempre detto. Vi facciamo adesso una prova di scatto. Ok. Questa è la foto scattata col Nexus 4. Come potete vedere colori molto falsati e luminosità soprattutto sbilanciata. Nexus 5 migliora drasticamente con Android 4.4.1 migliora ancora soprattutto in HDR ma già solo con Android 4.4 potete vedere ad occhio anche attraverso la videocamera come la foto sia completamente diversa. C'è chi ha anche avuto da dire che il Nexus 5 non fosse migliorato dal punto di vista fotografico probabilmente hanno uno smartphone fallato perché i miglioramenti sono super evidenti rispetto alla precedente versione. Andiamo adesso a analizzare un altro aspetto, la tastiera. Tastiera molto importante su un device. Proviamo per esempio ad aprire la tastiera da qua. Come potete vedere ho scritto molto velocemente, ha un bellissimo feedback della vibrazione sul Nexus 5 e soprattutto il display, distanze, a dovere, le lettere. mentre sul Nexus 4 abbiamo un feedback della vibrazione secondo me migliore. Mentre avendo un display più piccolo si rischierà di sbagliare in maniera più facile. Infatti qua ho fatto un errore di digitazione solo perché la tastiera è un po' più piccola ma parliamo proprio di millimetri, soprattutto in questo periodo stiamo usando molto di più Nexus 5 quindi bisogna un attimo tararsi sulla tastiera quando si cambia un device. Altre differenze sostanziali. Sostanziale no ma c'è una differenza appunto anche nell'audio. Vi apro Transformers, un trailer, vediamo cosa abbiamo. Proviamo ad aprire qualcos'altro. Transformers 4. Sentiamo l'audio e vediamoci anche il video. E anche ci sorbiamo qualche secondo di pubblicità. Mentre ci siamo possiamo vedere proprio lo smartphone Android di Quechua di Decathlon che uscirà, forse è già uscito, adesso devo andare a ricontrollare. Come potete, Chechua Phone è sempre basato su Android, neanche farlo opposto. Voglio farvi ascoltare soprattutto l'audio, vediamo un po' avanti se riusciamo. Ciao, ciao. Ok, avete potuto sentire, l'audio non è altissimo, è piuttosto anonimo come audio, non ha i toni bassi, ha quelli alti, però non sono bilanciatissimi. Tra l'altro abbiamo anche visto un trailer non di Transformer 4, ma di una raccolta di spezzoni dei vari Transformer. Becchiamo lo stesso video, ci becchiamo un'altra pubblicità di smartphone, lo sanno, lo sanno che siamo in diretta e che possono fare doppia pubblicità in questo modo. Ok, mettiamo al massimo. Vado subito un po' avanti così. Ok. 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 come avete avuto modo di sentire abbiamo un suono leggermente meno anonimo ma anche qua veramente basso aiuta il fatto di avere l'altoparlante qua sotto però non costituisce sempre un difetto che speriamo nel prossimo Nexus visto che il Nexus 7 2013 eccelle da questo punto di vista speriamo che col prossimo Nexus di non avere più tale difetto andiamo alla resa dei conti togliamo il Nexus S che ci è servito come comparsa la domanda che è al 99% mi fate o mi farete è conviene passare da Nexus 4 a Nexus 5 oppure meglio Nexus 4 259 o Nexus 5 359 bella domanda allora sconsiglio per adesso il passaggio da Nexus 4 a Nexus 5 tranne per il fattore fotocamera quella è l'unica discriminante se come me il fattore fotocamera non vi importa più di tanto tenetevi per adesso ancora il Nexus 4 è supportato direttamente è un ottimo smartphone è molto bello è molto delicato come potete vedere però merita merita ancora tantissimo e non troviamo tutte queste giustificazioni per prendere il Nexus 5 una giustificazione che non vi ho ancora citato potrebbe essere la batteria batteria che dura un paio d'ore in più nel Nexus 5 anche un 3 ore un 3 ore buone se siete fortunati quindi un 3 ore buone se siete fortunati grazie a tutti